Ho butelgo da farvi vedere una roba. Allora stamattina mi arriva una mail da mio amico che mi ha spiegato qua che è Christmas with mask. Una roba della Commissione Europea, sti rompi i coglioni degli europei sempre sta Europa. Vai andiamo a cambiare la lingua qua un attimo che non ho capito più niente. Vai in giù, vai in giù un attimo. Boh, italiano, eccolo qua, finalmente è una lingua che si capisce qualcosa. Europa sicura, Natale con la mascherina. Cos'è da sta roba? Allora, ok, si raccomanda a tutti i parroci di dare l'esempio all'interno delle rappresentazioni religiose, vabbè i parroci. Nello specifico sarebbe opportuno per sensibilizzare la popolazione far indossare la mascarina a Giuseppe Maria nel tradizionale presepe. La mascarina a Giuseppe Maria.